Buongiorno, sono Antonio Zulianello di NEC Display Solution Italia, General Manager della divisione e siamo qui a ISE 2012, una nuova avventura anche quest'anno ricca di novità e in particolar modo anche con un layout nuovo dello stand molto più ampio e molto più importante perché la nostra trasformazione è continua, continuiamo ad evolvere, non pensiamo più esclusivamente agli aspetti semplici di hardware ma pian piano ci spostiamo anche in quello che è l'ambito delle soluzioni, sempre più spinte, sempre più verticali a seconda degli scenari che andremo a toccare. Nell'ambito delle soluzioni troviamo quella che è un'applicazione di control room, quindi i nuovi monitor 55 pollici con cornice estremamente sottile da 5 mm tra uno e l'altro si prestano in maniera perfetta proprio per questo tipo di applicazioni dove in questo caso sono abbinati a una soluzione Hyperware per la gestione delle immagini, quindi diciamo proprio la classica e tradizionale applicazione di control room. Anche nell'ambito delle applicazioni digital signage il mondo evolve, i circuiti di digital signage stanno crescendo ma non basta più utilizzare uno schermo con qualche informazione sullo schermo. Oggi abbiamo soluzioni interattive oppure per targetizzare il messaggio che vogliamo comunicare, in questo caso lo facciamo con il field analyst che è un software sviluppato da NEC che permette di andare ad analizzare l'utente che sta guardando il monitor, se è un maschio o una femmina che è età, e a seconda della persona che guarda lo schermo gli si va a inviare un messaggio personalizzato. Questo naturalmente va abbinato poi a tutta una serie di altre opportunità, sensori, RFID o cose di questo tipo che permettono di andare proprio a catturare molto di più l'attenzione e a personalizzare i messaggi. E ci troviamo di fronte a un'altra novità veramente importante per quanto riguarda NEC che è Vucunet. Il mercato si sta arricchendo di tutta una serie di vari microcircuiti, micro microcircuiti di digital signage, uno diverso dall'altro, ma normalmente le società che possono spendere in pubblicità non trovano dei grossi benefici nell'utilizzare questi microcircuiti. L'obiettivo di Vucunet, che è una piattaforma software da fornire principalmente alle società di media, media advertising, permette di mappare tutti questi microcircuiti, di collegarli tutti a Vucunet e quindi di fornire un grossissimo circuito di digital signage da poi vendere naturalmente a chi può spendere in pubblicità. Questo è veramente una grossa novità, una novità assoluta, un software sviluppato da NEC già in funzione negli Stati Uniti e adesso presentato qui in Europa ufficialmente all'ISE 2012 che sarà sicuramente la grande svolta per il mercato della pubblicità anche in Europa.